Salve a tutti amici qui dell'Essisense e bentornati sulla rubrica Free Games E già sono in ritardo poiché questo gioco scade appunto oggi E dato che comunque caricherò questo video successivamente sarò in ritardo Quindi yeah Oggi giochiamo a Minit, ovvero un gioco che mi ha attirato solamente per la descrizione e mi ha incorrecito da subito Minit è un'originale mini avventura da giocare 60 secondi alla volta Usa test di direzione per camminare, va bene siamo... Oddio, perché mi ricordo tanto un Tamagogi? Va bene sì, sto camminando ma posso interagire con le robe? Abbiamo dei cuoricini lì sopra, quindi una vita, questo pare un letto, non posso interagire E non posso interagire Posso fare qualcosa? Adesso questi 60 secondi alla volta mi hanno messo un pochino di ansia Che cosa succederà tra 60 secondi? Anzi meno adesso Dei granchi Aia! Sono malissimo Qui l'acqua è bella calda, va bene Che cosa posso fare? Va bene, l'acqua è calda, cosa devo fare? Non vi tocco più, però volevo andare di qua Cos'è? Una spada X per usare la spada Ok Oh, sono iniziati 60 secondi Aspetta Posso uccidere anche Aiuto Aiuto Non posso ucciderlo Ok, va bene Ti lascio perdere 15 secondi 13, 12 No, ma che ansia Anche le lancette del tempo Cosa? No, fammi, fammi giocare Ti pre Oh no Ah, e sono già ripartita da qua Ok, posso uccidere il mio cane Oh no, mi dispiace tantissimo No, vabbè, sta dormendo Sta dormendo, non l'ho ucciso Tranquillamente Adesso voglio esplorare, però È buio lì dentro Sii prudente Va bene Non vedo niente Non vedo proprio zero Provo ad andare di qua Cos'è questo? Un market Vorrei della musica Se solo qualcuno si occupasse Di questi cinque granchi Prima veniva molto più gente qui Va bene, mi occupo io Di cinque granchi Mi dispiace tantissimo Non vedo questi cinque granchi Eccoli qua E uno Due Devo fare attenzione Tre E gli altri Oh, qui c'è una chiave Lì giù c'è una chiave Non posso spostare le cose, vero? No Sembrerebbe di no No, no, no Non è giusto No Aspetta Allora, questi cinque granchi Dovrebbero Aia Maledetto Dovrebbero essere anche questi Quindi C'è un Cosa è un possibile? Hai preso quella spada maledetta Di rigido E la fabbrica la svelta Scusami Ma prima non c'eri tu Li uccido Li uccido Ok No Mancano 15 secondi Voglio vedere questa Che mi dice Ho ricevuto del caffè E vai Vorrei della musica Della vera musica Mio Dio Adesso posso spingere le casse Con il caffè probabilmente Posso andare a prendere la chiave La chiave, la chiave Chiave del faro? Ma dov'è questo faro? Eccolo C'è un vecchietto C'è un segnale emergenziale Salve No dai No Sei troppo lento Mi dispiace Cosa c'è qui sopra? Aspetta Voglio vedere Una torcia Posso andare a finire Nel Dungeon Moriamo Vado nel dungeon Ah c'era un serpente Aia però mi ha colpito comunque Due serpenti Andare qui Un toro No che maledetto Scappa Famoso produttore di cartelli Ti rompo Cosa c'è qui? Campeggio del deserto Nuova casa selezionata Ah posso rispondire qui adesso? Negocio di scarpe Aia Dolore Sì posso rispondire qui Negocio di scarpe Vai vuoi andare nel negocio di scarpe Negocio di scarpe Vai Questo che cosa c'è Tempio segreto Tempio segreto Voglio andare nel tempio segreto Tempio segreto Persona se mi arrenda qualcuno può aiutarla Eh sì A me mi viene proprio addosso Eccolo Acqua Perché a me povero Ti porterò dell'acqua forse un giorno Oh Lascia stare le piante Oh Oh io Oh ma che boss E io come Va bene proviamo ad andare da un'altra parte Andiamo a cercare i soldi C'è un cantiere Conoscono il centimetro Quello spirito lancia Spade dell'Oasis Una diceria Non è vero L'ho visto Ah questi producono i cartelli Voglio provare a sconfiggere il toro No aspetta I Morto Cos'è? Ho trovato un cuore extra Non l'avevo visto Eh no Non è giusto Vai attenzione Aspetta Non è giusto Non l'avevo vista Aspetta 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 Ma ci sono dei Ah io Se ti sbarazzi Non lo saprò mai Ma le ho lasciate stare Le piante Ma le ho lasciate stare Ma perché A me Se ti distruggo tutte le piante Però Eh no Il tempo però Non può uccidermi sempre il tempo Eppure io che non le becco Eppure io che non le becco però Ma questi non posso Se li colpisco tutti Ho ricevuto Lancia spade Intanto sono morta No Non sono morta Come lancio le spade Tieni per muto X Oh Qui Proviamolo Se non muoio prima Sono morta prima E la mia spada è rimasta Alleggio Quindi c'è tempio segreto Eccolo Ho perso i miei 8 tentacoli Va bene Dove li hai persi Questi 8 tentacoli Il tempo Che ansia E niente Io spero per te Che questi tuoi 8 tentacoli Siano vicino E dai Di nuovo il tempo No non è possibile Questo è un labirinto troppo lungo Per farlo in 60 Manco 60 secondi No E niente Va bene ragazzi Questo era Minit Spero che vi sia piaciuto Come giochino E' molto carino Effettivamente Ora credo che lo continuerò Per me stessa E grazie mille Per essere rimasti Come fino a questo punto Vi ricordo Che questo qui E' un gioco Va bene Comunque Quando caricherò Questo video Già non sarà più gratis Quindi Però potete trovarlo Sull'epic store Epic launcher O qualunque cosa Voi utilizziate Come epic store E niente Grazie mille Per essere rimasti Come fino a questo punto Spero che il video Vi sia piaciuto E ci vediamo Alla prossima volta Ciao ciao Addio Ciao ciao Grazie a tutti.